Secondo lo studio di Union Camera e Info Camera, solo Bolzano e Sondrio registrano il segno positivo grazie all'apertura di una nuova edicola, mentre Orristano è stabile. Per il resto, negli ultimi quattro anni, tutte le province d'Italia hanno visto chiudere ben 2.700 edicole. Al momento ne sono rimaste 13.500. Nel 2000, con la liberalizzazione e l'apertura alla vendita di giornali nei bar e nei supermercati, erano arrivate a 65.000. A Cremona anche negli ultimi settimane ci sono state chiusure, di fatto annunciate, da Piazza della Pace alla Galleria 25 Aprile a Porta Venezia, Via Trebbia e sotto i portici di Via Baldesio. Al momento resistono 91 edicole in tutta la provincia cremonese, di cui 65 individuali, cioè non all'interno di altre strutture. In quattro anni ne sono state chiuse 27, pari al 23%, quando la media in Italia è del 16,5%. Dunque la crisi dell'edicole picchia duro nel cremonese, un settore destinato purtroppo a ridursi ulteriormente. Resta fiducioso, ma è anche molto critico, Enrico Zucchetti, rappresentante del Sinagi, sindacato dei giornalai. Gli edicolanti in molti casi, dice, non si sono evoluti e non hanno seguito il mercato. Le edicole non si sono attrezzate per questo mondo nuovo che sta arrivando. Per Zucchetti gli edicolanti possono vendere di tutto, ma spesso non lo fanno e si accontentano. Per esempio, dieci anni fa non fu colta l'opportunità data dall'accordo con poste italiane. Abbiamo fatto questo accordo con le poste di portare la posta in edicola, no? E con questo abbiamo fatto anche l'accordo con, per esempio, con i pacchi. Uno deve spedire un pacco, deve ricevere un pacco. Ne avremmo potuti fare in edicola, ma purtroppo l'edicolante non ha questa mentalità, cioè non c'è niente da fare. Questa cosa è caduta nel nulla, avevamo un'opportunità che non era neanche un investimento grossissimo per le edicole. Le edicole avrebbero potuto rilanciarsi in tanti modi, non l'hanno fatto e adesso, per Zucchetti, ne pagano le conseguenze. Fatto bene, questo lavoro porta anche risultati, però bisogna investire. Oggi le edicole non lo fanno più.